ciao ragazze ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi nuovo video recensione sul fondotinta della l'oreal nude magic lo de tint lo de tent come si dice non so l'acqua di tinta insomma allora è un fondotinta nuovissimo per questa casa cosmetica che però si rifà assolutamente al maestro di giorgio armani la differenza tra ovviamente il maestro e questo fondotinta qua è il prezzo perché il maestro costa circa 52 euro per una boccetta mentre questo qua costa sui 13 da quello che ho visto io l'ho visto alla sefora e dunque è un fondotinta di nuova generazione perché è a base d'acqua e infatti va sempre agitato prima di metterlo prima di indossarlo sulla vostra pelle in questo momento appunto io ho soltanto l'ode tint senza correttori né niente e la cosa che vi voglio dire che nonostante sia a base d'acqua quindi è un fondotinta molto leggero sulla pelle ha un spf 18 che non è proprio poco quindi è una buona cosa perché comunque riesce a proteggervi la pelle dal sole qua c'è scritto che non è comedogenico e appunto non è oil free non è un prodotto oil free però secondo me va molto bene anche per le pelli miste questo fondotinta sicuramente si prefigge di essere molto molto leggero sulla pelle impalpabile e non è ovviamente un fondotinta ad alta coprenza a me ad esempio non piace il classico face and body quindi ho detto sicuramente a me non piacerà questo fondotinta invece me lo sono provato e già dal primo giorno mi è piaciuto tantissimo ha un effetto stupendo la pelle sembra veramente non truccata quindi anche da molto vicino da questa idea di freschezza la cosa bella è che in questo in questo come si chiama boccettina in questa boccettina ci sono 20 millilitri quindi sono veramente pochissimi ho detto accidenti a parte che è molto bella anche esteticamente secondo me la boccetta ma 20 millilitri ho detto mamma mia durerà niente e invece la cosa bella è che ci hanno spiegato appunto ed è la verità che ne occorre veramente pochissimo basta agitarlo molto molto bene e poi prendere una goccia di prodotto sul vostro dito la potete applicare sia con le dita quindi normalmente che con i pennelli il mio colore è il 110 che è l'ivory l'ivory doré ivory doré o il warm ivory chiamatelo come volete ed è appunto è dorato altrimenti se siete un po più chiare di me c'è ad esempio il 120 che è molto adatto agli altri coloriti di pelle io questo fondotinta qua lo promuovo a pieni voti mi piace tantissimo sicuramente non ha un inci verde assolutamente no se cercate dei prodotti che non hanno siliconi eccetera eccetera non è assolutamente il vostro il vostro fondotinta però dipende ognuno da quello che vuole da un prodotto io personalmente vi dico provatelo perché tanto trovate i test i test nelle varie profumerie e poi fatemi sapere magari che cosa ne pensate perché io mi sono trovata veramente molto molto bene e già una mia la mia migliore amica una delle mie migliori amiche se ne è innamorata e niente allora questa è cosa ne penso io di questo fondotinta a livello di durata a me dura tranquillamente tutto il giorno però io non ho una pelle grassa ho una tende una tende tende ho una pelle sensibile e molto delicata in alcuni punti levemente mista magari nella zona t ma appena e a me ha veramente una durata pazzesca questo fondotinta su di me non necessita nemmeno di essere opacizzato perché appunto evaporando poi l'acqua rimane proprio questa sensazione molto molto leggera quindi a me piace tantissimo io spero che voi mi facciate sapere che cosa ne pensate quindi lasciatemi magari un commentino e e niente io aspetto poi le vostre recensioni su questo prodotto spero che questo video vi sia utile e noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video un bacione ciao ciao alice 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 la couture